Ciao ragazzi, questo è un video un po' particolare, voglio farvi entrare nei miei pensieri. Si può fare? Sì, con la tecnologia sì. Siccome ci sono tanti pensieri negativi, tante teste tristi, voglio donarvi un po' dei miei ricordi e dei miei sogni migliori. Quindi ora vi farò entrare nella mia testa e nei miei sogni. Ciao amore, cosa stai cucinando di buono? Allora, risotto con fugghi con un fattuto formaggio. E la madonna. E poi guarda che spettacolo, fai vedere a Instagram le montagne, che cazzo è un risotto di fugghi? Allora, risotto con fugghi con un fattuto formaggio. E questo è tutto. Ciao a tutti ragazzi.